Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Un incendio si è sviluppato per cause ancora da accertare in un appartamento a sesto e ultimo piano di un palazzo Ather in via Costa Lunga 1 a Trieste. Lo stabile è stato evacuato e all'edificio sono state portate fuori una cinquantina di persone che hanno atteso di sapere se potevano tornare in casa. Nessuno fortunatamente è rimasto intossicato. Sul posto la prima partenza del distaccamento di Muggia e dalla sede del comando centrale la prima autoscala, l'autobot e il funzionario di guardia, il personale dei vigili del fuoco ha utilizzato il naspo ad alta pressione per spegnere il rogo e gli autorespiratori per entrare all'interno dell'edificio invaso dal fumo. Lo stabile è stato evacuato dicevamo e sono in corso le fasi di messe in sicurezza. Anche il personale sanitario e la polizia di Stato sono intervenuti sul posto. L'appartamento dell'ultimo piano è interessato dall'incendio scoppiato nella camera da letto vuoto al momento del rogo risulta inagibile. Ed ancora proseguiamo con la cronaca sempre da Trieste perché oggi c'è stato un crollo di calcinacci in largo barriera. Alcuni calcinacci e pezzi di tegole sono caduti a terra dall'edificio di largo barriera che ospita tra l'altro il negozio Donda e la banca Unicredit. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno transennato l'intera area che è stata interdetta ai pedoni. Da oggi anche a Trieste un ritorno al passato. Il nome è cambiato. Si chiamano ora enti di decentramento regionale ma i confini sono quelli delle vecchie province come da legge regionale 21 2019 la UT Giuliana già commissariata con il trasferimento delle funzioni ex provinciali diventa DR di Trieste come accade nel resto della regione la UT Colli Alto Isonzo a quella del Friuli Centrale e a quella del Noncello, l'unione di cui facevano parte i comuni in capoluogo. In questa fase di decollo della riforma degli enti locali i quattro enti sub-regionali aventi competenza territoriale corrispondente a quello delle soppresse province assumono due compiti. L'EDR di Trieste dovrà innanzitutto gestire l'edilizia scolastica di secondo grado, quella che è l'assessore regionale alle autonomie Pierpaolo Roberti definisce la parte più preoccupante dell'attività della UTi ma c'è anche la promozione ad ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di centrale di committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi nel rispetto della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici. 300 chilometri di coste dell'Alto Adriatico fanno squadra per convincere i turisti tedeschi e austriaci a tornare immediatamente in Italia per le loro ferie estive. tra tre di città simbolo dell'accoglienza, del relax, dello svago e della movida estiva Iesolo, Cesenatico e Lignano con i governatori di Veneto, Luca Zai, Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga hanno lanciato la prima campagna promozionale congiunta, un gioco di squadra per il rilancio del turismo italiano sui mercati internazionali con una strategia mirata, per la prima volta promuoveranno ulteriormente e unitariamente sul mercato tedesco la loro offerta di vacanza come una destinazione unica dalle tante opportunità. La valorizzazione di questa macro area turistica italiana è affidata ad una campagna tv sul più famoso sito di previsioni meteo tedesco fetter.com e su canali tv nazionali privati generalisti all'insegna del Climb Friuli Venezia und Emilia Romagna italianische Adria. Cambiamo argomento, grande ripresa del traffico dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Nei primi giorni di luglio lo scalo accoglie circa 50 voli tra arrivi e partenze, 88% in più rispetto a ieri. Un salto di qualità che allarga la rete dei voli su destinazioni sia nazionali che europee. In particolare hanno ripreso a volare British Airways con il volo su Londra, Heathrow ed EasyJet con collegamenti su Cagliari, Brindisi e Napoli a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno Catania, Olbia, Bari e Londra Gatwick. Air Dolomiti operativa da giugno passa da 3 a 11 voli settimanali su Monaco, Air France da 7 a 14 voli a settimana su Parigi, Lufthansa da 7 a 14 voli su Francoforte, Ryanair introduce da oggi Barcellona, Bruxelles, Charleroi, Dublino, Edimburgo e la Mezzia Terme e porta da 2 a 3 le linee settimanali su Bari, da 2 a 5 quelle su Catania e da 3 a 7 quelle su Palermo. Domani 2 luglio ripartiranno anche Iberia con 4 voli settimanali su Madrid e Turkish Airlines con 4 voli su Istanbul. Il 3 luglio Swiss attiverà 5 voli a settimana su Zurigo e Air Serbia 2 su Belgrado, mentre Volotea operativa dal 18 giugno aggiungerà i suoi collegamenti Alghero, Olbia, Miconos e Santorini. Il 4 luglio ripartirà a SAS con un volo a settimana su Copenhagen. Teatro, musica, mostre e scienza. Da luglio a settembre il castello di Miramare di Trieste apre le sue porte alla cultura in tutte le sue declinazioni. A presentare il programma di Miramare estate nella Sala del Trono sono stati la direttrice del Museo Andreina Contessa insieme con i rappresentanti delle istituzioni culturali coinvolte nella rassegna che partirà il 3 luglio per poi concludersi il 27 di settembre. Sarà un'estate diversa rispetto alle precedenti ma sarà bella e sicura. Si è approvato un piano marketing che contempla l'intera costa dall'Ignano Sabbiadoro fino a Muggia e le linee guida recepite dai vari concessionari dimostrano che si può andare in spiaggia con la massima sicurezza. La regione Friuli Venezia Giulia che quest'anno ha scelto per la campagna mare 2020 post coronavirus il claim Friuli Venezia Giulia a braccia aperte si confermerà come territorio ospitale dalla varietà unica a pochi chilometri dal mare. Offriamo suggestive colline e montagna, città d'arte e specialità enogastronomiche di eccellenza. domani sul Friuli Venezia Giulia su bassa pianura e costa cielo in genere sereno poco nuvoloso in montagna variabile con rovesci sparsi qualche temporale più probabile nel pomeriggio non è escluso qualche temporale anche in pianura caldo affoso in pianura dal pomeriggio brezza sulla costa. Passiamo al Veneto alternanza di nuvole e rasserenamenti andando dalla costa le zone pedemontane e montane fino all'alba assenza di precipitazioni quindi probabilità bassa per piogge locali dal mattino probabilità da medio bassa a medio alta per piogge che si verificheranno in vari momenti fino a risultare da sparse ad estese si tratterà di piovaschi rovesci temporali. Temperature rispetto ai giorni passati fino al pomeriggio andamento irregolare con variazioni generalmente leggere moderate di sera saranno più basse anche di molto con minime nelle ultime ore rispetto alla norma fino al pomeriggio saranno più alte anche di molto di sera con andamento irregolare. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo di ARPA l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto per il momento dal nordeste tutto appuntamento alla prossima edizione Grazie a tutti!